Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, nuovo video a tema serie tv. Si è conclusa, adesso oddio, l'8 di marzo è uscita, la seconda stagione di questa serie italiana made in Italy tratta appunto da un libro made in Italy che personalmente mi ha conquistato dal primo all'ultimo episodio. Sto parlando di Guida astrologica per cuori infranti. Questa serie appunto è tratta dal romanzo di Silvia Zucca, io vi ho già parlato della prima stagione che era composta da 6 episodi della durata di 30, 37, 38 minuti l'una, assolutamente scorrevolissimi e qui appunto ogni puntata aveva come titolo un segno zodiacale, infatti siamo arrivati a Riete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine adesso siamo andati avanti con gli altri 6 che adesso non mi ricordo quali sono sinceramente, c'ho un lapsus incredibile e anche questi sono stati scorrevolissimi, frizzanti e devo dire che questa seconda stagione non ha per niente deluso le mie aspettative. Vi ricordo come sempre che potrebbero esserci spoiler, io comunque ve l'ho detto, mi sto addestrando per cercare di farle il meno spoilerose possibili ma sono ancora una padawan quindi abbiate pazienza prima di diventare maestro Jedi potrebbe volerci un po', quindi io vi dico se siete quelle persone che anche il più piccolo spoiler vi fa prendere fuoco da dentro vi dico rimandate la visione del video quando avrete visto questi ultimi 6 episodi, se invece siete persone a cui non danno nessunissimo fastidio o volete semplicemente godervi un mio video allora buona visione a tutti. Questa seconda stagione ha ripreso esattamente da dove si è conclusa la prima, cioè nel senso sì abbiamo avuto un piccolo time skip ma insignificante diciamo, abbiamo appunto i nostri protagonisti Alice e Davide che sono in una situazione di stallo poiché appunto Alice ha scoperto che Davide non è esattamente libero come sembrava e allo stesso tempo sta anche cercando di mettere ordine nei suoi pensieri e soprattutto è sempre più appassionata di astrologia grazie al suo amico Tio. Una cosa che voglio anche già dire è che mi è piaciuto come hanno gestito la questione della diciamo passione per l'astrologia di Alice. Nel libro di Silvia, comunque trattato in maniera delicata e non per niente pesante Alice diventava quasi dipendente dall'astrologia, ne faceva proprio quasi un'ossessione, una malattia e Silvia comunque l'aveva gestito bene, qui capisco che sarebbe stato abbastanza difficile però devo dire che l'hanno gestita abbastanza bene perché appunto c'è anche la sua migliore amica che a un certo punto arriva a dirle io non ho bisogno di trovare la risposta da nessuna parte le mie decisioni le prendo da me e quando tu avrai capito che io non sono come te che ho bisogno per forza di appoggiarmi a qualcosa come l'astrologia allora potrai richiamarmi in un momento in cui le due appunto hanno questa brutta discussione che mette appunto in discussione anche tutte le certezze di Alice. Tio per esempio, Tio è un esperto e un appassionato di astrologia ma non ne fa una malattia Tio è semplicemente anche poi una persona che è molto chiusa sentimentalmente ed emotivamente infatti adesso ha questa relazione che si sta facendo sempre più seria e arrivate a un certo punto non sa come gestirla e questo era presente anche nel libro e anche qui è trattato molto bene perché diciamo c'era anche tutta come vi dicevo anche quando ho parlato della prima stagione gestire tutte queste pagine in 12 episodi è abbastanza complicato diciamo che hanno gestito l'essenziale e l'hanno gestito anche abbastanza bene soprattutto anche la situazione di Alice e Davide perché Davide appunto qui hanno fatto un cambiamento che non so se dirvi però se volete saperlo io adesso intanto vi invito a leggere il libro e a guardare la serie ma vi dico anche già subito che potrete saperne di più in live con me e Silvia giovedì 17 alle 17.30 ecco vi dico già questo nella vita di Davide hanno fatto alcuni cambiamenti che comunque sono stati funzionali per questa storia per diciamo il target e la linea di questa serie quindi diciamo che ci sta allo stesso tempo anche Alice come ho detto è stata cambiata non è diventata una dipendente dall'astrologia è tutto gestito in maniera molto leggera molto soft e l'hanno fatto per non perdersi probabilmente il 60% del pubblico che voleva vedere una commedia frizzante romantica divertente si trova davanti una che deve andare in riabilitazione perché è ossessionata dall'astrologia perché ad un certo punto Alice ci va nel libro cioè io ve lo dico vi invito ad andare a vedere appunto la recensione del libro a un certo punto Alice veramente anzi le consegnano veramente di andare a parlare con qualcuno qualcuno che la possa aiutare a liberarsi di questa ossessione sempre tutto trattato in maniera assolutamente leggera leggera e senza mancare di rispetto a nessuno da Silvia qui appunto devo dire che poi abbiamo anche Parigi poco m'atmosfera quindi questo è stato mantenuto fedele ma è poi stata cambiata anche la facciana del professore e quant'altro e va bene perché lì se no quanto riguarda un libro Silvia l'ha gestito bene ma in una serie tv si sarebbero presi denunce soprattutto in questo periodo quindi va bene che l'avete cambiato Bindu Films avete fatto bene avete fatto bene per carità del signore per quanto mi riguarda va bene perché nel libro quel professore è un po' una specie di Hitler nascosto dietro un francese un sveglia non me lo ricordo neanche più quindi appunto meno male che hanno cambiato questa cosa qui appunto vediamo anche Alice Davide sempre friggere come la tempura macchia devo dire che i due attori sono spettacolari anzi io voglio ringraziare l'attore che interpreta Davide che mi ha messo il like alla foto della recensione della prima stagione ti ringrazio tantissimo sei davvero gentilissimo e anche alla Bindu Films che mi ha messo il like spero che vi piaccia anche questo video e che guarderete la live che farò con Silvia il 17 quindi grazie 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 sono queste che mi danno le vere soddisfazioni non i 5 euro che guadagno al mese ma queste piccole cose quindi grazie sono credibilissimi sono adorabili si vede che comunque c'è chimica tra loro proprio friggono per tutto il soggiorno a Parigi mamma mia poi Alice l'attrice che fa Alice è perfetta secondo me lei è proprio Alice poi non parliamo anche di Carlo anche qui hanno fatto dei cambiamenti che ci stanno perché Carlo nel libro vive davvero una situazione da calci in culo e se li merita se li merita tutti nel libro i calci nei testicoli invece qui hanno cambiato tutto e va bene diciamo che da una parte ci sta il cambiamento più diciamo però importante è quello dedicato al personaggio di Barbara nel senso che nel libro nel libro Barbara è una stronza al quadrato è una spina nel culo è un alluce valgo che non ti dà nessun tipo di possibilità di metterti una scarpa è un'unghia incarnita fino all'osso veramente è una cosa allucinante proprio tu vuoi prenderla avete presente la scena di sventura quando mena quella che poi alla fine è un uomo vorrete farle la stessa cosa se leggete il libro qui hanno cambiato e vi dirò da una parte diciamo che posso trovarlo in linea con la storia ma dall'altro sinceramente mi domando perché fare questo cambiamento cioè non è stato un cambiamento proprio essenziale nel senso che anche se mantenevi la Barbara unghia nel culo non succedeva niente anzi anzi in questo genere di serie tu vuoi avere qualcuno da odiare qualcuno da cui costruire una bambola a voodoo e metterle gli spilli nei punti in cui fanno più male tipo in mezzo alle dita dei piedi per niente da dire all'attrice anzi che è stata molto brava io poi la conosco solo che non mi ricordo il nome io per i nomi abbiate pazienza se state guardando questo video vi voglio bene a tutti ma io vengo da una giornata poi domenica sto girando questo video di lunedì sera voi lo state guardando di martedì io ancora non connetto io sono ancora a Milano in mezzo ai tavoli del Free dove appunto poi ho conosciuto anche Silvia di persona quindi vi chiedo scusa vi chiedo Venia e quindi appunto non ho capito il perché di questo cambiamento sì forse perché volevi tenere il tutto molto soft molto romantico e non volevi fare incazzare nessuno però così si è perso un po' di di frizzantezza nella storia Davide Alice e Barbara capito cosa voglio dire non dico che sia propriamente un difetto da che schifo la sera hanno cambiato ma chi la guarda più no no assolutamente non è un cambiamento da strapparti i capelli rotolarti affogarti darti la scossa elettrica per soffrire di più mentre ti stai affogando assolutamente no però diciamo che è un cambiamento di cui non ho visto la necessità però vabbè diciamo che però da una parte mi è andato anche bene me lo sono fatto anche andare bene visto comunque l'atmosfera che regna nella serie e vi dirò che visto il finale a me una seconda stagione in cui coinvolgano Silvia nella sceneggiatura non mi farebbe schifo cioè se Silvia scrivesse un secondo libro di guida astrologica magari Silvia non così grande ti prego no scherzo scherzo ovviamente però se Silvia scrivesse un secondo libro e ci facessero una serie oppure anche semplicemente una seconda serie ma chiamassero Silvia per la consulenza e la sceneggiatura io ci metto la firma perché veramente per quanto comunque non ci sia cliffhanger la storia finisce non fatevi già prendere dal panico perché sto immaginando una seconda stagione perché dico che non mi farebbe schifo non vi fate prendere dal panico la storia si chiude c'è proprio la scritta di end a caratteri cubitali a caratteri stellari anzi diciamola pure tutta però se pensassero di fare una seconda stagione con Silvia alla consulenza per la sceneggiatura perché comunque sarebbe giusto adesso io non voglio assolutamente puntuale a nessuno però sarebbe giusto dato che le creature e la storia sono sue quindi chi meglio di lei può entrare nella testa di questi personaggi e scrivere un eventuale seguito senza un libro lo può fare solo lei lo può fare solo lei guardate come è finita con il trovo di spade che quando si sono ritrovati senza i libri di Martin le cagate che hanno fatto Game of the Venice of the Wise insegnano ragazzi date retta a saretta quindi ragazzi che dire anche questa seconda stagione mi è piaciuto un botto ho adorato i personaggi ho adorato la storia ma poi io voglio fare anche una domanda Windu Film o gli attori uno degli attori che magari mi sta guardando nel video qui su Instagram me lo faccio sapere ma Mimì Mimì vi prego ditemi che sta bene vi prego se guardate la serie capite ma fatemi sapere se Mimì sta bene io ho bisogno di saperlo quel cagnolino che è l'amore puro vi prego ditemelo perché non si sa più un cazzo ditemelo per favore fatemelo sapere per la mia salute mentale che ho già perso due cani non voglio soffrire ancora mentitemi anche se necessario comunque che dire anche questa seconda stagione mi è piaciuta tantissimo io ve la consiglio tutta la serie prima e seconda stagione se volete appunto spegnere il cervello vedervi una bella serie made in Italy fatta bene poi perché l'Italia lo sappiamo l'Italia è piena di cose belle ma adesso ultimamente viviamo per le fiction invece questa non è una fiction questa è una vera serie tv targata Italia è fatta davvero bene grazie se si va a unire a quelle sono Gomorra romanzo criminale ma quelle sono tutta un'altra cosa ma una serie romantica made in Italy fatta davvero bene che non sia una fottotissima fiction della Mediaset non c'è nulla da togliere poi a quelli a cui piacciono ce ne sono anche di belle delle fiction della Mediaset per carità del signore io ne ho guardate tante alcune carine alcune fatte bene alcune sono una merda stroppo stoibica quindi vi prego veramente se cercate un'atmosfera romantica frizzante leggera carina per staccare il cervello sognare un po' divertirvi guida astrologica per cuori infranti fa assolutamente per voi e vi dico già subito che potete o prima leggervi il libro e guardare la serie o prima guardare la serie e leggervi il libro per avere proprio il quadro completo e non resterete delusi nessuno dei due casi bene anche questo video a tema serie tv si conclude qui io spero che vi sia piaciuta vi ricordo come vi ho detto l'appuntamento giovedì 17 alle 17.30 qui sul mio canale live con Silvia Zucca per parlare appunto di questa serie del libro e per fare quattro chiacchiere in generale come faccio sempre io qui con gli autori e le persone che invito vi ricordo come sempre che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale soprattutto seguirmi su instagram link in descrizione in descrizione trovate anche i link di tiktok e way way full che è questo nuovo social che mi sono fatta e sotto il video trovate anche il tasto grazie se volete farmi una piccola donazione per sostenermi aiutarmi anche magari per prendere altri oggetti altre cose di scena che mi possono aiutare a migliorarmi altrimenti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nessun nuovo video vi ricordo poi come sempre che in descrizione trovate anche i link delle pagine facebook dedicate a The Walking Dead Carrie l'Italia e The Walking Dead Ita Family Carrie l'Italia abbiamo ricominciato con i live commentary questa ogni settimana sono ricominciate le analisi di Carol sono ricominciate gli screenshot le news gli approfondimenti le mie reaction quando c'ho voglia di farle le mie analisi quando c'ho voglia di farle insomma potrete trovare davvero di tutto e di più non solo inerente alla Carrie che in sto periodo proprio una magra colossale ma proprio inerente a tutto l'universo di The Walking Dead e poi potrete trovare anche le nostre live pubblicate e seguirci comunque settimanalmente in cui facciamo il commentare dell'episodio della settimana e poi dopo potete andare su The Walking Dead di Ita Family che anche lì potrete trovare davvero di tutto e di più news, foto, aggiornamenti aree di discussione commentari vari meme divertenti chi più ne ha più ne metta insomma ragazzi se amate The Walking Dead seguite queste due splendide pagine facebook in questo video vi è piaciuto mettetemi un bel pollicione in su e fatemi sapere voi che cosa ne pensate se avete visto tutta la serie se vi è piaciuta se non vi è piaciuta perché non vi è piaciuta se la guarderete se vi è incuriosito allora la guarderete fatemi mi raccomando sapere confrontiamoci nei commenti ragazzi io vi do appuntamento ricordo giovedì 17 17.30 live qui sul mio canale con Silvia Zucca e poi ci rivediamo ai prossimi video ciao a tutti no vi prego no vi prego sul serio ditemi dov'è Mimì io devo sapere se mi sono persa un pezzo perché io sono rincoglionita vatemelo sapere dov'è hashtag dov'è Mimì vi prego ma intorno a